ma io non lo so io se mi do uno sforzo e basta che stiamo eh ti devi ribellare polizia facchie collega facciamo un controllo un minuto collega fammi feriti di mangiare mio panino avete che stiamo in servizio ma poi quanto mangi? ne ho voto io, della mattina la sera ah beh ho capito stiamo perdendo tempo avete droga? noo avete precedenti? noo avete pensato a birra collega collega non scherzare scendi e controlla scende e controlla scende e controlla ora con il panino che fanno le pigare e le chietta no 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 non sarebbe giusto pensai mischino a quella gente amaca amaca del terzo mondo che non può mangiare giusto ecco mangiate sto pane ma che chi te ne rome però prima fatti controllare forza fatti controllare andiamo da c'è qualche cosa vediamo che c'è oh collega forse c'è un uomo non ti trovo e vedi vedi no no ho cozzorò pane ma quando di mangiare si sente si sente subito chissà 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 fatti questo panino e tu non gli un dallo nooo se li bene ooooooooh a coccia ho tu non gli una bocca da pazzo farosa e fichi i paloni chissà 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 a casa rosso vabbè dai i polcano documenti ha valore la tua miseria sempre io scissito lo mi hai ho ho��iti Antonino matranga se un matranga dimmi una cosa ma ieri alle 21 dov'eri? 21 ma parrei giocare a calcetto pahah quindi giochi pure a calcetto cissà scommetto che sei un attaccante bravo mi allenavo Si vede si vede l'hai scritto con le facce E lei dov'era ieri 6? pure a calceto cinsato l'ha oh e chianna … life zot chi? per chi? perché l'hai scritto non devo farciare un coi noto complimenti complimenti vabbè ragazzi tutto a posto a quanto ho capito è tutto a posto grazie grazie mille ma leviamo una curiosità ma il tuo allenatore chi era? russo saluta ma è grazie a lui che sei diventato un grande attaccante è grandissimo tu salutami al tuo compagno ignazio per chi? è grazie a lui che è diventato un coi noto grazie mille grazie Maria Teresa